Domani parte la Sagra di Mezzagosto a Cisano Solneva, un appuntamento imperdibile. Qual è lo spirito che anima questa bellissima festa e quali le novità di quest'anno? Lo spirito è sempre il solito, quello di accogliere le persone, di essere ospitali e di dare la possibilità ai turisti, alle persone anche di qua, di poter venire a vedere il nostro centro storico e il nostro paese. Le novità sono molte, sono molte rispetto agli anni scorsi dal punto di vista della cucina, saranno proposti molti piatti della tradizione ligure, addirittura avremo le crepe con la marmellata del chinotto, dunque un presidio slow food, la ricerca veramente di trovare qualche cosa dal punto di vista culinario da proporre ai nostri tanti visitatori. Siamo contenti perché è difficile in questo momento, con tutte le ristrettezze, con tutto quello che la prefettura ci impone di fare, ma siamo contenti di essere riusciti a riproporre per cinque giorni di fila una Sagra che è un punto di riferimento del nostro comprensorio. Per questo voglio fare i complimenti alla nostra Proloco, per la passione, per il tempo che stanno perdendo, perché sono più di cinque giorni che stanno montando e stanno cercando di fare il meglio per poter creare un bel palcoscenico, per poter dare una bella visibilità del nostro paese. Più che fare i complimenti è fare un appello a tutti perché vengano a assaggiare la qualità dei nostri piatti. Ricordiamo che ci sarà la porchetta con l'antica tradizione, con lo spiedo che gira con l'acqua, che è un po' il nostro cavallo di battaglia. Siamo pronti per ospitare tanta gente, per essere noi finalmente in pace dopo gli eventi alluvionali e tutto, di ritrovare la serenità e ci prestiamo ad accogliere più persone possibili. Anche un modo per visitare e conoscere ancora di più il bel centro storico di Cisano. Certamente, Mara, lo ricordi tu ed è giusto e mi fa piacere perché è stato un investimento importante della nostra amministrazione, quello di rifare tutti i carugi. Sarà il modo, penso, la vetrina migliore per mostrare che cosa è diventato il nostro paese. E di fare festa, di pensare a cinque giorni di serenità per tutte le persone, perché ne abbiamo tutti bisogno, perché è stato un anno veramente duro per noi, per i miei concittadini, per tutti quanti. di poter tirare un po' sulla testa e ripartire serenamente con l'auspicio che il futuro sia migliore di quello che ci ha riservato invece i mesi appena passati.